Musica 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 E' il tuo balletto Da ricordo Musica 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 Questa Metti, non si sente la muscola. Metti una cassa in mezzo. Eh ormai. Qua è tutto bruciato, dai miei. Sì, andiamo. Eh sì, al motello, buttate. Ah, comunque hanno detto che... cioè per la giornata di domani togono i cari, per fortuna. Sì, perché hanno avuto paura. Perché Ninja... Sì, Ninja ha un ragazzo per più. Eh, stavo aprendo app. Sono picchiettone e giuccio i cari. Eh... E non dicono niente. Sono picchini, a loro gli skin viene il regalo. Eh... Lo schifo in un giorno cosa fa? Insieme a loro quarete. Posso aver incasso quel gioco adesso? Eh, pure io ce l'è. Ho fatto un paio di partite e non... A me non è con l'entusiasta proprio. Eh, bravo. Dicevano a me che ho fatto, no? Che me lo ferma. No, per bellino, ma non è così. No, che ho fatto, no? Sai che mi senta? Fa buttino con me. Eh, un'aria. Un'aria fa buttino. Pertutto. Ora breccati. Ok, finmini. No. Ho abituato feeling? Eh, io c'ho l'assalto blu. Fanno dei materiali qui. Dobbiamo le fai e... Dobbiamo le fai. Dopo ci mettiamo... Eh beh, sento il tempo da un chilo, quindi... Andiamo verso le pietre poi, che stanno pure in safe. Eh, le casse qui le ha preso. Quali? Non c'è niente. Sì, ci sono. Per l'intragetta, l'intragetta è troppo forte, però la previ. Eh, le bruse 2. E' un parocco. Per l'assalto blu. Per l'assalto blu. Quando questo riuscire a prendere tutto. E' un po' in alto. L' У周' non c'è solo due, però. Eh, e' un po' in alto. è solo quello, mi permette avevo già due cazzinelli hai detto beh, avevo un colpo a uno, ti lo imbazzi eh, ma andava vicino mi dovrei avvicinare un altro po' ma che ne prendi? la sopra avevo fatto la scala giusta all'L bello, avevo due cister ragazzi non aspettatevi che siamo pro qui e che siamo all'inizio perciatevi il nome da buttati se potremmo fare due materiali a te lo stavano sinistro ho tenuto un po' di salina e all'inizio del meteo mi preso di affe l'altro banco di rama io sto pensando che mangi più rama perché ho aggiunto perché all'inizio non lo facevo io li preparavo pure la testa sarà deserto di quello se la vuoi te la prendo io eh ci ho fatto quello sul mirino poi ce lo conserviamo e vabbè viva un giorno al crocidino e vabbè vabbè neri si ammazza con te che vanno niente guarda qua lo spaccatore neri sicuramente la cambieranno tutta l'altra ha detto che forse vado a mettere il vulcano io sto pensando che non ci mettono male perché ci sono troppi schifo oh già andiamo avanti si con l'overberdo oh è imbagliato adesso lo vedo comunque aperto la cassa 50 guarda guarda Puscio vuole con me che c'è un bomba buona stacqua di nuovo pensate non andare solo aspetta sei andato a grande ed è davanti in fondo aspetta aspetta dovevo prendere la cassa per la modalità vera il quadro è stato un casino da tutto e che non sia un cielo oh il drive è verde guarda che il cecchino è silenziale no no le vende le prendo anche di altri oh è pompa blu che c'è dì non va bene quale c'è quello verde no c'è quello del nonno è blu no guarda i palloncini no dammelo dai però muoviti per una che c'ha ma non ce l'ho te prendilo ma è un'altra ma perché è libertà e mai ecco ma vabbè tu la bastarda di me anonimo ma che ti anonimo ti chiamo eh ragazzi avete visto questi aerei son proprio un intraccio per la merda e boh non lo so fateci sapere se volete alcuni video di questo genere lo rifiamo perché non avevo capito che tu me l'avevi dare il pompa avevo capito che te lo aveva i palloncini capi no mi dovevi dare il pompa eh non avevo capito che tu me l'avevi dare e tu e tu mi dovevi dare il nato dai lo rifiamo Grazie.